Un milione di euro per valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Sud Italia come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. È online la seconda edizione del Bando Biblioteche e Comunità, sostenuto da Fondazione Con il Sud e dal Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Si può partecipare sulla piattaforma Bandi del Centro per il Libro e la Lettura entro il prossimo 16 settembre. Fino a un milione di euro le risorse disponibili, il Bando si rivolge alle organizzazioni del terzo settore per sostenere progetti socioculturali che coinvolgano le biblioteche nei 105 comuni pugliesi che abbiano ottenuto la qualifica di città che legge per il biennio 2020-2021. I progetti della durata di due anni dovranno essere orientati a produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio, avviando processi che includano non solo il miglioramento dell'accesso agli spazi, al patrimonio bibliotecario e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio, ma anche modalità innovative di partecipazione, di confronto e di coinvolgimento di persone svantaggiate e spesso escluse dai processi culturali.